C'è rimasta da espletare l'ultima formalità, noi siamo molto superstiziosi, abbiamo le nostre cabale e chiudiamo il concerto sempre nella stessa maniera. Il nostro Francesco dalla chitarra si sposta alla batteria, sua seconda passione. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, è stato tutto veramente molto molto bello, chi stanno, ce la stanno facendo tutti, ci siamo quasi. Pronti, 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 ancora una volta ve lo garantisco, noi ci siamo divertiti veramente tanto, spero che vi siate divertiti anche voi, se qualcuno non si è divertito, che si fotta. Hey, ho, let's go, hey, ho, let's go, hey, ho, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ciao a tutti.